Quest'oggi siamo con Cristina, la regista appunto di Qualcosa di Nuovo, in pratica oggi parliamo con la regista proprio del tema. Come è avvenuta la scelta del tema? L'idea è di far incontrare persone di generazioni diverse, che forse nella vita si incontrano meno, perché queste due donne di 40 anni e il ragazzo, che non hanno niente a che vedere perché sono due mondi completamente, in realtà proprio per questo riescono a dirsi, a stare insieme in un modo più libero e anche a conoscersi più che se forse avessero incontrato persone della loro stessa generazione. E come pensa che reagirà in pratica a questo tema il pubblico? Guardi, non lo so, penso alla commedia teatrale, è stato tre anni di grandissimo successo, spero piaccia anche il film, noi possiamo solo sperare. E come ultima cosa, come è stato lavorare con due grandi professionisti e poi questo, diciamo, nuovo sodalizio? Beh, molto molto divertente, perché sono bravissime, dunque non si fatica, ma si possono inventare cose in più, lavorare con due attrici molto brave è sempre una grande gioia e loro poi sono così diverse, che già erano molto nei personaggi. Grazie mille, speriamo tutti quanti che appunto sia un grande successo. Grazie mille, grazie.